Perfetto, in questi giorni mi sto prendendo bene con queste inquadrature strane Tanto ormai non c'è più niente da perdere, è andato tutto a putt***o, il mondo fa schifo E saluti ragazzi, bentornati in questo nuovo vlog in cui purtroppo ho un annuncio spiacevole da farvi Ora io veramente capisco e approvo il concetto di antifragilità, ci ho anche registrato un video a riguardo È tutto molto bello poter trarre un beneficio da un disagio, ve ne ho già parlato, è una dottrina, una scuola di pensiero che condivido Però ogni tanto, sapete, mi piacerebbe lucrare anche su dei video che non raccontino sempre qualcosa che mi danneggi in prima persona Ma poi tra l'altro in ogni video dove io vi racconto delle mie disavventure non è per un qualche fattore esterno che rompe nella mia vita e mi causa un disagio È sempre per qualche stronz***a che faccio io Cioè la volta che mi apro la testa in monopattino, la volta in cui faccio esplodere un iPhone, questo è per veterani La volta in cui mi rubano il telefono è sempre perché io ho fatto qualche minchia C'è da dire che questa volta però la minchia l'ho fatta il doppio, il triplo più grossa Veramente sono stato un idiota Due giorni fa mi è stato rubato sotto il naso il mio iPhone 12 Pro Max Proprio quello che vi avevo mostrato nel video, cosa c'è nel mio iPhone, il mio iPhone principale Per chi mi conosce, ma anche per chi non mi conosce, dovete sapere che io su quell'iPhone avevo tutto Tutta la mia vita, i miei segreti più reconditi, tutto era su quel dispositivo Rubandolo è come se mi avessero rubato la mia anima Faccio questo video comunque dopo due giorni perché prima mi sono occupato degli aspetti burocratici Di risolvere o quantomeno di limitare i danni E questo vuole essere un video con due facce Sia un vlog dove vi racconto com'è andata Perché so che a voi malandrini piace sapere dei miei disagi Ma anche un video che spiega all'atto pratico nel dettaglio Che cosa fare quando vi viene rubato uno smartphone Nello specifico un iPhone Voi non sapete quante volte dei miei amici mi chiamano e mi dicono Aiuto, mi hanno rubato il cellulare, che cosa devo fare? Poi magari scopri che sono già passate 24 ore Allora vorresti direttamente dirgli impiccati Però non lo puoi fare Quindi gli dici la classica frase Prova a localizzarlo contro il mio iPhone e scopri che è già in Egitto Ad ogni modo non dilunghiamoci Nella prima parte del video vi racconterò che cosa è successo La mia esperienza personale Nella seconda parte vi darò dei consigli molto utili Qualora un giorno, vi auguro di no, succedesse anche a voi Quindi se non vi interessa il mio racconto Potete usare i capitoli qui sotto per andare direttamente alla parte tecnica Se invece state continuando a guardare Vuol dire che ci tenete il mio racconto e che condividete il mio dolore Per chi non dovesse saperlo io sono di Milano Milano città E sabato sera, quindi due o tre giorni fa Dovevo uscire la sera con una ragazza Con cui mi sto già frequentando da un po' di tempo Tra l'altro tirandomi una gufata incredibile Perché prima di uscire mi trovavo a casa dei miei genitori E in particolare mia mamma Lo sapete come sono le mamme no? Che lanciano le raccomandazioni come se fossero incantesimi Mi raccomando stai attento la sera Al che io ovviamente le rispondo Mamma devo uscire con una ragazza al parco È probabilmente l'uscita più tranquilla che mi faccio dall'ultimo anno Non può succedere niente, non l'avessi mai detto È successo il finimondo Quindi decidiamo dopo cena di prendere due birre e andare insieme al parco Sempione Che è un parco molto popolato, molto famoso, anche abbastanza grande di Milano Che tuttavia la sera non è proprio il massimo da frequentare E sto usando un po' un eufemismo Ci sediamo ai piedi di un albero Proprio in stile accampamento nomade Passiamo del piacevole tempo insieme E io mi ricordo anche proprio durante queste ore Di aver utilizzato lo smartphone a volte per rispondere a dei messaggi Il fatto sta che poi l'ho appoggiato accanto a me Cioè io ero seduto qua accanto a me Mamma ho appoggiato lo smartphone Confidente del fatto che non ci fosse nessuno Quindi ho detto chi deve passare Non lo stavo neanche guardando Dopo due ore Faccio per andarmene Dico vabbè si è fatto tardi Cerco il coprifuoco a mezzanotte Andiamocene, metto la mano e sento soltanto la terra Non sento nient'altro Non sento nessun corpo rigido per terra Al che però io non è che penso me l'hanno rubato Perché non ci si è avvicinato nessuno Neanche per chiederci una sigaretta Proprio non abbiamo visto nessuno Quindi dico cazzo non reggo più neanche una birra Se non trovo più il mio telefono Me lo chiami per favore La mia amica comincia a chiamarmi E dopo un po' sento Vodafone Il telefono della persona chiamata potrebbe essere spento e irraggiungibile Panico più totale Lì ho iniziato a dire Oh cazzo Oh m***a Mi hanno rubato il telefono In quel momento mi è crollato il mondo addosso Cioè ero proprio la definizione di In sbatti perso Ma non tanto per il telefono in sé Per tutto quello che c'era dentro Tutti i dati Pensate che addirittura io stavo pensando di tenermi le criptovalute In cui investo direttamente in locale Sull'iPhone Meno male che non l'ho fatto Perché altrimenti avrei perso tutti i miei investimenti Numeri di telefono Conti bancari Accesso al portale delle fatture Un casino c'era in quel telefono E non ero neanche sicuro di aver fatto un backup recente Quindi c'era anche il pericolo di aver perso delle foto a cui tenevo tanto Immaginatevi voi alle 11 di sera due ragazzi con due torce Anzi una torcia sola Perché l'altra il mio telefono me l'ha stato rubato Io con un Galaxy S9 della mia amica Con la torcia A cercare in mezzo alla terra In mezzo al nulla Un telefono che già non c'era più Niente dopo un po' sconsolato Mi son detto Me l'hanno fottuto È inutile continuare a cercare Andiamocene Pensate che addirittura in un momento di follia Io volevo farmi chiudere dentro al parco Accamparmi lì tutta la notte Rimanendo sul posto e attendere le prime luci dell'alba Per continuare la ricerca Dico magari è buio Non l'ho visto È caduto in una buca È andato sotto un albero Poi ho pensato che effettivamente sarebbe stato più intelligente Alzarsi la mattina presto e ritornare sul posto Cosa che ho fatto ma nel mentre sono successe un sacco di cose Allora poi quando riprendo un attimo il lume della ragione Dico va bene Come prima cosa ho accompagnato la mia amica a casa in taxi Tra l'altro immaginatevi la scena Io proprio che ero nero in faccia Cioè ero il ritratto della morte Lei poverina che cercava in tutti i modi di rassicurarmi Di farmi stare meglio Che vi abbracciava Ti prego Vedrai che le cose si sistemeranno Era solo un telefono Stai tranquillo Il tassista Ma non è colpa tua Guarda che anche a me era capitato In Messico una volta mi hanno rubato i soldi Sì sì ragazzi tranquilli Sto bene Guarda accelera un altro po' Accelera Abbasso il finestrino Che mi butto direttamente dalla macchina in corsa E facciamo prima Vabbè fatto sta che ritorno a casa E a quel punto chiamo Giulio Il mio amico Insane Dave Che avrete già sicuramente conosciuto Perché ve l'ho portato sul canale tante volte Ho chiamato lui perché Oltre che saperne oggettivamente molto più di me Su tutto questo mondo e queste questioni Mi sembra anche poi al lato pratico Tra le persone che meglio sa reagire In una situazione inaspettata Di disagio Quello che ti dà i consigli migliori Quindi gli scrivo su Telegram e dico Bro aiutami ti prego nel cuore della notte Mi ha incavallato il telefono Devi andare immediatamente a fare la denuncia Non tanto perché poi te lo ritrovano Perché ovviamente è tutto dire Capita molto raramente che un telefono rubato Venga ritrovato in seguito a una denuncia Ma più che altro per il blocco della sim Che è una cosa fondamentale E che non può essere eseguito A meno che non ci sia una prova della denuncia Quindi Giulio e la sua ragazza Sono passati nel cuore della notte A prendermi sotto casa in macchina E a portarmi in una sede dell'arma dei carabinieri Ora doveva essere una serata tranquilla Stai serena mamma non succederà niente E mi sono ritrovato a luna di notte Dai carabinieri a fare una denuncia Cioè io ero lì che dicevo Come ci sono finito in tutto ciò Posso raccontare qual è stata la mia esperienza Con il servizio offerto E mi dà le forze dell'ordine Per sporgere questa denuncia Avvocato posso dire esattamente Quello che penso della gestione vaccinale europea? Cioè che... No Pazienza Lascio solo due appunti Abbiamo chiamato il 112 Per farci dire quale fosse il centro più vicino Aperto di notte E prima che qualcuno ci rispondesse Sono passati 5 minuti Il 112 dovrebbe essere il numero generale Per le emergenze Se ci fosse stata una reale emergenza Addio Ciao Sarei potuto finire a faccia in giù In un fosso A parte questo Arrivo alla sezione dei carabinieri Mi fanno entrare In piena notte Aspetto in uno stanzino In una sala d'attesa Praticamente un'ora e venti Io assieme ad altre due persone Vittime anche loro di furti Dopo un'ora e venti Arriva un agente in stanza Che ci fa Guardate il software per fare le denunce Si è bloccato Quindi o ripassate un altro giorno Oppure ve la dovete fare voi E ci consegna Le carte Per fare la denuncia Manco fossimo a scuola Mi viene data come penna Un sapone disinfettante Per le mani Vuoto Vecchio Tutto appiccicoso Con attorcigliata Una penna Per scrivere Io vi giuro raga Mi sembrava di essere tornato a scuola Cioè con Lei che mi guardava E io che Compilavo una denuncia Quando Non ne ho mai compilata una Non so come si compila una denuncia Credo sia la denuncia Peggio scritta Della storia del mondo Comunque fatto sta che dopo due ore di agonia Riusciamo a fare questa denuncia E io me ne torno a casa Il giorno dopo tra l'altro Metto la sveglia alle 6 Perché il parco Sampione apre alle 6 e mezzo Mi reco sul posto Per fare le mie ricerche Ovviamente non trovo niente Anzi poi alla fine stanco morto Mi sono praticamente riaddormentato Su una panchina del parco Che veramente sembrava un barbone Quindi una volta appurato Che il telefono era bello che rubato Non c'era niente da fare Mi sono recato al centro Vodafone Per bloccare la sim vecchia Con la prova della denuncia E aprire una nuova sim Con lo stesso numero di telefono Questo per esempio è una cosa Che io onestamente Non sapevo che si potesse fare Non sapevo che se ti rubassero un telefono E tu bloccassi la sim per furto Dopo potessi richiedere un'altra Con lo stesso numero Non la si finisce mai di imparare Comunque vado al centro Vodafone E presentando la mia denuncia La ragazza che doveva assistermi Molto gentile tra l'altro Mi ha detto Caspita ma sai che sei il secondo Che oggi passa Che racconta la stessa storia Cioè un'altra ragazza Prima di me era entrata In quello stesso centro Raccontando che lo stesso giorno Quindi il giorno prima Si trovava nello stesso posto Al parco Sempione Era sdraiata per terra A fare un picnic E allo stesso modo Racconta che appoggiando il telefono Sul prato Ad un certo punto Senza che se ne fosse resa conto Le è sparito Quindi a questo punto E poi lese Che al parco Sempione Ci sono delle Dei gruppi Delle persone addestrate A puntare la gente A aspettare Un momento debole In cui si distraggono Sgattaiolare Senza farsi sentire E sottrar loro Lo smartphone Io sinceramente Mi rifiutavo di credere Che in due Io e la mia amica Non ci siamo accorti Che qualcuno Ci ha sgattaiolato da dietro E' arrivato a tanto così da me Senza che io lo sentissi Sottraendomi il telefono Però è anche vero Che se è gente Che ci ha puntato Vai tra Avranno visto a me Arrivare con una ragazza Ha detto Togoarda il segaiolo Questo tra poco Verrà distratto Da questa donzella E noi ne potremo approfittare E così è stato Comunque questa è La mia storia Mi è stato rubato Il mio iPhone principale Fortunatamente Un po' grazie a quello Che già sapevo Un po' grazie a quello Che mi ha detto Giulio Un po' grazie a Colpi di fortuna Sono riuscito Praticamente a Clonare tutto Sul mio iPhone 12 Viola Quello su cui c'è iOS 15 Che adesso è diventato Il mio telefono principale E praticamente non ho perso Niente Tutti gli account Sono stati discornesti Da quel dispositivo Tutto è bene Quel che finisce bene Ora che potete aggiungere Questa disavventura Alla mia enorme lista Vi posso raccontare Effettivamente Cosa bisogna fare Prima che un telefono Venga rubato Proprio come prepararsi All'evenienza Che qualcuno Ce lo possa rubare E cosa bisogna fare Dopo Nel caso Sfortunatamente qualcuno Ce lo dovesse Effettivamente rubare Allora iniziamo da Cosa dovreste fare A partire da ora Perché vi metterà In una situazione di vantaggio Qualora ve lo rubassero Prima tematica da affrontare Conviene o non conviene Avere un PIN Nella SIM Attenzione Non al cellulare Un blocco con codice Alla SIM Che è una cosa Che si ottiene Andando nelle impostazioni Dell'iPhone A prendere la sezione Cellulare PIN SIM E appunto Scegliere se averne uno Oppure no Qui il ragionamento È un po' contorto Perché l'una o l'altra scelta Comporta vantaggi e svantaggi diversi Se voi avete un blocco Alla SIM Vuol dire che ogni volta Che il telefono Viene acceso Oppure ogni volta Che la SIM viene tolta Inserita in un altro telefono Non potrà essere utilizzata Quindi non potrà Inviare o ricevere Messaggi o chiamate Finché non verrà sbloccata Con un PIN Che ipoteticamente Un ladro non conosce Quindi la cosa più logica Da fare sarebbe inserirlo In questo modo Un malintenzionato Anche se dovesse Togliere la SIM Dal cellulare rubato E inserirla In un altro cellulare Non potrebbe comunque Utilizzarla Se la SIM fosse senza codice Invece potrebbe comunque Fare chiamate O inviare messaggi A vostro nome O cosa ancora peggiore Conoscendo il numero Se dovesse risalire Anche alle vostre email Potrebbe utilizzare Queste due informazioni Per resettare Qualche vostra password Di qualche vostro sito web Perché si fa mandare Il codice di reset password Al vostro Numero di telefono Che può possedere lui E se la SIM Non è bloccata da codice Basta appunto Inserirla in un prepagato E l'SMS viene ricevuto Se la SIM La bloccate con codice Questo rischio Non ci può essere Però Dall'altro lato Una SIM bloccata da codice Fa sì che Quando vi sottraggono il cellulare Se questo dovesse essere spento E successivamente riacceso Non potrà essere localizzato Sulla mappa Di trova il mio iPhone Perché non potrebbe accedere Alle risorse Rete Date cellulare Per farsi localizzare Sulla mappa Quindi riassumendo Avere un PIN Nella SIM Impedisce che un malintenzionato Possa usare La vostra identità telefonica Ma rende anche più difficile La localizzazione Del telefono Sulla mappa Non avere un codice SIM Rende più probabile La localizzazione Sulla mappa Del telefono rubato Ma d'altro canto Apre le porte Ad un potenziale rischio Di furto di identità Se volete sapere come la penso È molto improbabile Che un ladro Che vi sottragga il cellulare Sia così stupido Da tenerlo acceso O comunque Da farvelo ritrovare Sulla mappa Quindi generalmente Il mio consiglio È quello di attivare Il PIN Della SIM Però ovviamente Io vi ho detto Le due strade Così potete scegliere voi Io per esempio Non ce l'avevo Ma così Per una coincidenza La seconda cosa Che vi consiglio di fare È scrivervi su un foglio Già da ora Alcune informazioni Del vostro smartphone Ovvero Numero di telefono Che spero ve lo ricordiate Numero di serie E codice email Queste due informazioni Le potete trovare Molto facilmente Andando in impostazioni Generali Info Prendetevi questi codici E scriveteveli Su un pezzo di carta Perché saranno richiesti Per eseguire la denuncia Qualora ve lo rubassero È vero che si trovano anche Sulla scatola Dell'iPhone Che avete acquistato Però salvarveli Su un pezzo di carta Può essere un'ottima idea Io per esempio Non ce li avevo E per risalire a questi numeri Ho dovuto In questura Dai carabinieri Guardare il mio video unboxing Di quel telefono Guardare il momento In cui mostravo la scatola E dal video Leggere i numeri Pensate alla scena Altra cosa Che vi può essere utile Oscurare le notifiche Che arrivano Quando il telefono È bloccato Questo lo si fa Andando nelle impostazioni Notifiche Mostra anteprima Soltanto quando sbloccato In questo modo Se chi dovesse rubarvi Il cellulare Dovesse averlo Come è più probabile Che sia quindi bloccato Su questa schermata Non potrà neanche Leggere il contenuto Delle notifiche Che vi arrivano In quel momento Ultimo consiglio Che vi do Abilitate il backup Su iCloud Di tutto Io sono sempre stato Un sostenitore Del backup via cavo Perché secondo me È più lineare È più veloce È più pulito Però è vero che Il backup via cavo Non lo puoi fare sempre Lo puoi fare una volta Ogni tot Una volta ogni mese Invece il backup automatico Su iCloud Se voi attivate Tutte le voci Dalle impostazioni È vero che Su iCloud Vi occupa un sacco Di spazio Quindi 5 GB Gratuiti Che vi offre iCloud Non vi basteranno più Dovrete sottoscrivere Un abbonamento Mensile o annuale Però hey È molto utile Perché così avrete Sempre uno snapshot Un backup Aggiornato Di tutto E se vi dovessero Rubare il telefono Non perderete niente Potete ripristinare Tutto in man che non si dica Su un altro E queste erano Tutte le cose da fare Prima di subire un furto Adesso vediamo Cosa fare Nel caso voi vi accorgeste Che il vostro telefono Vi è stato rubato La primissima cosa da fare Da un dispositivo Qualunque Sia esso vostro O non vostro Accedere a Trova il mio iPhone Per farlo Basterà andare sul sito iCloud.com Accedere con l'ID Apple Dell'iPhone Che vi è stato rubato E aprire l'applicazione Trova il mio iPhone Che sui dispositivi Apple Invece si chiama Direttamente Dov'è Dopo aver fatto l'accesso Con il vostro ID Apple Dovete pregare Che venga ancora localizzato Nel caso il telefono Non fosse stato spento Ovviamente Non sarà più localizzabile Sulla mappa A meno che il dispositivo Non sia di nuova generazione Deve avere almeno Un processore A12 A13 O superiore E abbia iOS 15 Perché iOS 15 Attiva su questi dispositivi La possibilità Di essere localizzati Anche quando sono spenti A patto che passino Vicino Ad un altro iPhone Di nuova generazione Acceso Sfortunatamente Sul mio iPhone C'era iOS 14 Quindi dimentichiamoci Tutto ciò Anche se il telefono Dovesse essere spento E quindi iCloud Non vi sarà utile Per localizzarlo Sarà fondamentale Attivare la modalità Smarrito Che quindi bloccherà Il dispositivo E l'unica cosa visualizzabile Sarà un messaggio Con delle informazioni Di contatto Qualora il telefono Venisse ritrovato Dopo aver fatto Le cose principali Con iCloud L'altra cosa da fare È togliere Quel dispositivo Da tutti gli account Che possedete Per questo motivo È importante avere Sempre almeno Due dispositivi Su cui avete fatto L'accesso Su tutti i vostri account Perché così Se ve ne rubano uno Siete già dentro Ai vostri account E dall'altro Mettiamo caso Che io avesse avuto Accesso al mio canale YouTube Soltanto Da quel telefono Rubato Sarei stato Fottuto Perché una volta a casa Dato che io su YouTube Ho l'autenticazione A due fattori Con l'SMS Sul numero di telefono Fino alla richiesta Di una nuova sim Non sarei potuto Entrare Nel mio account Perché l'SMS Sarebbe stato mandato Ai ladri E non a me Invece io Avendo più dispositivi Su cui ho sempre L'accesso a tutto Ho potuto tranquillamente Andare nelle impostazioni Per esempio Dell'account Google Sicurezza E togliere quel dispositivo Quello rubato Dal mio account Google E' molto importante Fare questa cosa Perché in questo modo Quel dispositivo Verrà buttato fuori Da tutto Fatelo con Account bancari Instagram Account Google E qualsiasi account Dove avete dei dati riservati Praticamente ogni sito web Serio Che preveda la creazione Di un account Nelle impostazioni Della sicurezza Prevede anche un modo Per fare questa cosa Dovete uscire Da tutte le sessioni E dovete togliere Quel dispositivo Dalla lista Di quelli autorizzati Su quell'account Perché dovete Mettervi in testa Che quel dispositivo Non è più vostro Se non sapete Come uscire Dalle sessioni Se non trovate Quella voce Basta anche Cambiare la password Cambiate la password Degli account A cui tenete di più E in automatico Tutti i dispositivi Che c'erano dentro Verranno scollegati A quel punto Potete andare a fare Una denuncia Dovete recarvi Nella sede Dei carabinieri Più vicina Sperando che vi ci mettete Un po' meno tempo Di quanto ci ho messo io Poi prendete La copia Della denuncia Andate nel primo Centro aperto Del vostro operatore E dovete chiedere In successione Prima di bloccare La sim attuale E poi di crearne Un'altra Con lo stesso Numero di telefono A me è costato 10 euro E tutto è bene Quel che finisce bene Una volta avuta La nuova sim Prendete ovviamente Un altro telefono La insedite Al suo interno E in teoria Facendo l'accesso Con iCloud Se avevate Un backup Se avevate Tutti i dati Sincronizzati Praticamente Non ci sarà Altro da fare Ripristinando Questo backup Potrete trasformarlo Nel clone identico Del telefono Che vi è stato rubato E il telefono Che vi è stato rubato Ormai sarà utile Come un fermacarte Perché sarà in modalità Smarrito Sarà stato disconnesso Da tutti i vostri account Non potranno fare niente Questa ragazzi È stata la mia Tragica Avventura Io spero che questo video Vi abbia sia divertito Sia che vi sia stato utile Sono quelle cose Che vorresti Non accadano mai Ma purtroppo Per una persona Giovane come me Che il telefono Ce l'ha praticamente Sempre in mano Viaggio spesso Non mi fermo mai un attimo Prima o poi Sarebbe dovuto succedere Spero di aver trasformato Tutta questa disavventura In un'esperienza formativa Per me E anche per voi Se è così Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network Come sempre il link Ve lo lascio qua sotto giù In descrizione Cliccando qui là Ti potete raggiungere altri miei due video E invece cliccando qui al centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao